Allora, oggi si invertono i ruoli, è una puntata suggerita da una serie di commenti Che sono arrivati sul nostro canale Telegram e quindi E quindi per forza di cose dobbiamo fare una grande puntata E quindi iscrivetevi al canale Telegram Visto che oggi non ti ci incazza, almeno la call to action Va bene Va bene E quindi in base a questi commenti che sono arrivati da Francesca e da Sofia Stranamente No, che salutiamo Facciamo una puntata sul cui Quindi sul quoziente intellettivo Palla esperto mondiale del quoziente intellettivo Bravo Finalmente dopo 100 puntate hai detto finalmente una cosa giusta Bene, bravo Palla che è esperto mondiale di tutto In particolar modo In particolare Ad onorem Esatto Di cui No, allora il cui Tu lo sai scientificamente cos'è? Perché non ho idea scientificamente Non esiste neanche scientificamente È un numero in realtà Sì, è un numero che si calcola scientificamente tramite una gaussiana È un test È un test Psicologico diciamo Psicologico Più che psichiatrico Però va bene È un numero Che ci dice Che cosa sostanzialmente Il Punto L'intelligenza Che attenzione Poi Intelligenza Come si può dire? Poi la definiamo Capacità intellettive dai Esatto Le capacità bravo Più che l'intelligenza Le capacità intellettive Di un singolo individuo Poi torniamo singolo individuo su gruppi Perché è interessante In realtà No, cioè in realtà è così Io un paio d'anni fa Ti comunico una cosa che non sai Mi sono un po' infuriato a Leggermi Come si dice Statistiche Curiosità sul quaziente intellettivo Io non ho mai calcolato Minimale perché non so un cazzo Esatto Io non ho Non ho mai calcolato il mio quaziente intellettivo Ho fatto una stima Ok Leggire Porca troia Che imbecille Capito Ho fatto una stima Non diciamo che ho fatto una stima Porca troia Ho fatto una stima Ho capito Ma ho letto che c'ho 300 di cui Ho letto che avrò Ho letto che avrò Tra i 105 E i 110 Ho letto secondo me Che comunque È assolutamente Nella media Cioè Non ho letto Né di essere eccezionali Bisogna rimanere umili Umili Esatto No perché se poi ti si Oh madonna Che cazzo è ritardato Ma non Allora No non si può dire ritardato Cancella questa parte Sì sì Si può dire Ehm Madonna Le lacrime No No ho fatto una stima Del mio quid Che ripete Che è in base a una serie di cose Ma in base a Di voi sono curioso adesso In base a cosa hai fatto la stima Cioè Vedi che sei un cazzo di idiota Che adesso ti spiego Allora Cosa succede Succede che Ovviamente Perché Tu non sei un cazzo di niente Che voi scienziati Siete dei cazzo di cavalli Con i paraocchi No? Che non ho riuscito a vedere Più in là In base a Il cui Allora Il cui è il più grande Ehm Come si può dire È la statistica Che prevede Con più precisione Il successo Diciamo Ovviamente Il successo relativo Però La capacità Di un individuo Di Ehm Avere appunto Successo Da un punto di vista Lavorativo Chiaramente Partendo da Ehm Un numero Cioè Con anni D'anticipo Ok Vuol dire Vuol dire che Non è che Se hai 160 Di cui Per forza Avrai successo Così come Però Adesso Fami spiegare Meglio Comunque Nessuno Ti sta interrompendo Ti sta interrompendo La sola Incredibile Sei tu Perché sei tu Che ti sento Ti sento Ti sento Come un corpo Sulla spalla Figa Pronta Perché sai Che dici Cazzate Ma non dire Cazzate Allora Adesso ti spiego No perché Anni fa Questo è vero Sì Anni fa C'è stato un dibattito Negli Stati Uniti Accesissimo Che io volevo affrontare Alla fine Perché è venuto fuori Anche un discorso Etnico In base al cui Ok Però ne parliamo dopo Sostanzialmente Il cui Cosa fa Stabilisce Quanto una persona Adesso io lo sto spiegando così Non è tecnicamente Esattamente così Quanto una persona Sia in grado Di elaborare Ovviamente a livello astratto Ok Quindi di elaborare Di processare E di risolvere A livello astratto Una serie di Problemi Giochi Perché poi si calcola Tutto in una serie di modi Vi anticipo Che i test del cui Che si trovano gratuitamente Su internet Non funzionano Ok Sono test del cui Devono essere fatti Da un esperto Ok Quindi non mettetevi A calcolare il vostro cui Su Google Vi anticipo anche Che è meglio Non farsi Calcolare il cui Perché poi Il più delle volte Ci sono spiacevoli sorprese E in realtà Volevo fare Un discorso storico E adesso ti spiego Perché Se mi permetti Prego Sei lanciato Io ti lascio parlare Sì sì Bravo Nel 1919 Il governo degli Stati Uniti Quindi finita la prima guerra mondiale Si accorge di una cosa Cioè si accorge che Gli americani sono degli imbecilli No attenzione No no Si accorge che E questi Sono stati i primi Ad accorgersi di questa cosa Che è una cosa ovvia Però non ci avevano mai pensato Ovvero che Ci sono All'interno di Di ogni organizzazione Nello specifico All'interno dell'esercito Una serie di mansioni diverse Che comportano Che cosa Una Appunto Un problem solving Per semplificare Diverso E che quindi Un obiettivo fondamentale Da parte dell'esercito Doveva essere Quello di Garantire Che le persone Più intelligenti Quindi con un cui più alto Ovviamente Il cui non è L'unico Parametro Per misurare L'intelligenza di una persona Però quando intendo Intelligenza Intendo cui Quindi le persone Con il cui più alto All'epoca il cui Non era ancora stato scoperto In tutto ciò Cioè calcolato Perché scoperto Quindi le persone Che appunto Avevano questa capacità Di provvenzione Più alto Dovevano essere portate Nelle posizioni più alte Nella gerarchia Del Militare Il più velocemente Possibile Perché si voleva Far sì che Nelle battaglie In guerra Nei momenti cruciali Le decisioni più complicate Venissero prese Dalle persone più competenti Ok Quindi si parte Da un problema Molto semplice Ha senso Ok ci siamo Fin qua La cosa che mi ha Colpito Un sacco Leggendo varie cose Su internet Vedendo un po' Di video su youtube E poi ho letto Anche mezzo libro In inglese Non mi ricordo Come si chiama Che praticamente Nell'esercito Negli Stati Uniti Ok E questo poi Mi ricollego A fra Quando le dicevo Che le aziende Lo fanno Le università Lo fanno In modo illegale Non puoi essere Arruolato Dall'esercito Degli Stati Uniti D'America Ancora oggi In 2020 Se il tuo QI È pari O inferiore A 83 Ok Ok Perché Perché non esiste Ma legalmente questo Non è sotto buco No no Questo credo Allora Non so se Cioè se è Scritto sul sito Ecco Però è Sanno tutti Che è così Perché Perché non esiste Una mansione All'interno dell'esercito Che è un essere umano Quindi uomo Donna Bambino Con un QI Di 83 O inferiore È in grado Di svolgere Senza rischiare Di essere un danno Per gli altri Ok Cioè senza rischiare Di mettere in pericolo Altre persone E quindi La cosa incredibile È che Una società Neanche pulire eccessi Della caserma Esatto Anch'io mi sono chiesto questo Cazzo Però quello che Vedo che lo facciano Dette esterne Quindi Un'organizzazione statale Che è sempre Alla ricerca di nuove Persone Che non vede l'ora Di arruolare Non ti arruola Se hai un QI Di meno Di 83 Ok Cosa che tra l'altro Posso dire Dovrebbe fare Anche l'amministrazione italiana Esatto Attenzione a questa Esatto Ma arrivo proprio lì Dove Dove Come si dice Dove Vuoi andare a parlare tu Quindi mi informo Un po' sul QI E vedo E mi accorgo Che C'è una letteratura Vastissima Sul quoziente intellettivo E su come interagisce Sulle persone E mi accorgo sostanzialmente Di una cosa Cioè che L'80% Più o meno 70% Delle persone Ha un QI Assolutamente Nella norma Ok Tra 95 Più o meno Che è già Un pochettino Verso il basso E 105 110 Ok No 115 Vediamo un range Un po' più alto Sì la metà è data a 100 Perché è una gaussiana Non è un punteggio Scusami Cioè i valori I valori vanno da Tipo 50 A 160 Perché è una curva gaussiana Non è un punteggio 130 Sì sì esatto Esatto Quindi 100 è esattamente la metà Esattamente E E quindi La stragrande maggioranza Delle persone Ha questo quoziente intellettivo Ok Il problema Come in tutte No Queste Queste statistiche È agli estremi Ok Quindi l'estremo Basso L'estremo alto Ok Quindi sopra Questa Diciamo Questa media Abbiamo in persone qui 120 130 140 150 160 Di cui Il cui Poi tende a calare Con l'età Più si invecchia Più cala Il cui Non cala di tantissimo Ok Per quello che intanto Sembrano che Le persone anziane Sono un po' rincoglionite Con tutto rispetto Per le persone anziane Perché gli cala un po' Il cui Cala di solito Massimo di 5 punti Credo Di ricordare Cala abbastanza poco Cioè se uno è stato un genio Non è che diventa un coglione Però diventi un pochettino Più rimbambito E quindi abbiamo i geni O comunque le persone Molto molto dotate Ok Dall'altro abbiamo persone Molto molto poco dotate Ok Togliamo un attimo Dall'equazione Tutte le persone in mezzo Quindi noi Diciamo Ok La cosa Secondo me Molto interessante È che Tutte le persone Che hanno un cui più alto La maggior parte Le persone Che hanno un cui alto Occupano In modo Poco sorprendente Però in realtà È stata una sorpresa Perché non era così Ovvio Delle posizioni A livello lavorativo Di un certo tipo Cioè Sono in grado Di avere Dei lavori E delle carriere Di gestione Con dei problem solving Molto elevati Ok Quindi con Non è soltanto Il cui Chiaramente Ci sono anche Tutto una Ci sono i cinque tratti Fondamentali Ci sono altre cose Però adesso Sto semplificando Per far capire Ok E Se hai un cui alto Ok Sei in grado Di risolvere Problemi astratti Così complessi Che per forza di cosa Per forza di cose Chiaramente Se sei interessato Perché poi non è obbligatorio Che tu lo faccia Occuperai delle posizioni Molto molto alte E questo va benissimo Siamo tutti contenti Il problema Qual è Che sotto 90 Ok Di cui Tu hai una capacità Così limitata Di Invece fare Quello che fanno Le persone Con un cui alto Che È molto complicato Inserirti in una società Non in una società Lavorativa In una società Nella società italiana Cosa vuol dire Vuol dire che Questo è uno studio Questo non è uno studio Sì È un Diciamo È una serie di conclusioni A cui sono arrivati Alcuni psicologi E sociologi Dal 2000 in poi Cioè La società mondiale L'universo Il mondo del 2000 È così complicato E ogni anno Diventa più complesso Internet Le tecnologie I social media Ok Diventa così complesso E così stratificato Cosa vuol dire stratificato? Vuol dire che Il mondo non è più Un piano Ma sono una serie Di piani Ok Che sono Sovrapposti Quindi si stratificano E tutti i piani Insieme Comunicano Ma ogni piano È indipendente Ok Questo è un discorso Un po' complicato Però Passatemi Quest'idea Cioè che Il mondo è stratificato Le fasce No no ma Di tutto Di universo Di significato Di simboli Tutti tutto Ok Quindi il mondo Diventa così complicato Da capire Ok Che con un cui di 90 Tu sostanzialmente Non lo puoi capire Cosa vuol dire Non lo puoi capire? Che il tuo Ruolo No Nella società È troppo Come si può dire Tu non riesci a Stare dietro al mondo Ok E quindi Tu non solo Non sei utile Alla società Da un punto di vista Diciamo Darbignano No Di sviluppo Ok Ma sei nocivo Non sto scherzo Ma questa è una roba seria Nel senso che Nel senso che Tu dovresti Formarti No Studiare Tutto quanto A un certo punto Produrre Quindi Non riesci a produrre Perché non riesci a elaborare Il mondo Esatto E la cosa pazzesca È che Sono andati a vedere Alcuni dei lavori Che venivano considerati Più Semplici Perché le persone Che hanno un cui basso Fanno dei lavori semplici Cosa vuol dire Dei lavori semplici I lavori semplici Si dividono in due parti O sono lavori altamente ripetitivi No Cioè che fai sempre la stessa cosa E quindi imparare a fare una singola cosa E fai solo quella E nel momento in cui Entra una variabile Non sai più come comportarti Quindi questo È il primo lavoro semplice Oppure un lavoro Dove magari è sempre diverso Ma hai sempre una persona sopra Che ti dice cosa fare Ok E quindi tu non ci metti Sostanzialmente del tuo Sono andati a vedere Una serie di lavori Per esempio Uno che mi ricordo Che mi aveva colpito Era il commesso di McDonald's Cioè la persona che lavora a McDonald's Ok E effettivamente Avevano fatto una media Tra una decina di McDonald's Che i dipendenti di McDonald's Avevano tutti un qui Superiore a 100 Cioè che Lavorare da McDonald's Non è così semplice Come Sai quando ogni tanto Si dice anche un po' così Vai da McDonald's In realtà Lavorare da McDonald's Ti richiede un cui Che per un sacco di persone È Proibitivo Ok Quindi qual è il problema Che volevo anche affrontare In questa puntata Esiste Tutta una fascia di popolazione Quindi dal 90 in giù In realtà è un po' più in basso Seve dall'85 in giù Per cui Che è inadatta A fare qualsiasi lavoro Esatto Il problema è che è il 10% È tra il 10 e il 15% Della popolazione Ok Di una società moderna E indovina quanto è più o meno Il rating di disoccupazione Delle società moderne Tra il 10 e il 15% Quindi Sì beh Forse non c'è da sorprendersi No Assolutamente Se i dati coincidono Però è interessante questa cosa Allora non è che coincidono perfettamente Cioè non è che tutte le persone Che hanno un cui basso Non lavorano Perché poi chiaramente Ci sono persone Che in qualche modo Entrano nel mondo del lavoro Così come ci sono Un sacco di persone Che hanno un cui più alto Che non lavorano Però La cosa incredibile E una cosa di cui Non si parla mai In realtà Non esiste un dibattito pubblico Sulla vicenda È che Noi abbiamo Il 10% Della nostra popolazione Per stare bassi Che non è in grado Di svolgere Ancun lavoro E anzi Se dovesse mettersi Nel mondo del lavoro Danneggerebbe Paradossalmente Chi lavora Perché E quindi Il fatto che ce l'avrai sempre Quindi È un problema Che va da prendermente Il reddito di cittadinanza Il basic universal income Servirebbe esattamente Per loro Cioè noi dovremmo Trovare il coraggio Di E questa cosa succederà Anche su Come si dice Ne parla anche brevemente Harari In Homo Deus Che è un libro Molto bello Che sto pieno di leggere Cioè che A un certo punto Noi dovremmo Scrinnare Quindi Per scremare I bambini Già da piccolissimi E intorno ai 10 anni Dire Tu hai un cui 120 Ok è normale Tu hai un cui 80 Ok Tu fai quello che vuoi Cioè ti facciamo Come si può dire Tipo Tipo L'animale domestico Cioè ti facciamo cazzeggiare Ti manterremo No Ti foraggiamo Esatto L'importante è che non lavori Cioè l'importante è che Non fai nulla No no Stai a casa Esatto Questa è una tragedia Cioè se ci pensi è una tragedia Però No Sì non sono d'accordissimo Su questa cosa No Però l'idea è Cioè non sono d'accordissimo Alla base No Perché Tutto questo ragionamento Fila se tu prendi per Per vero Il calcolo del quoziente intellettivo Ma in realtà In medicina si usa spesso Il calcolo del quoziente intellettivo Specialmente Come ti dicevo prima Come in psichiatria Nello studio delle malattie neurodegenerative E nel mondo diciamo Accademico Nel mondo sanitario Si sa che il calcolo del quoziente intellettivo È qualcosa di Per la grande maggioranza Indicativo Nel senso che ci sono Un miliardo di variabili Anche l'emotività Il calcolo test È sempre falsato Cioè E quindi Per forza di cose Se tu in quel momento Non stai performando bene Banalmente Perché hai dormito male O hai cagotto Sì sì certo Cioè chiaramente Non è che possiamo inserirti Nella fascia di persone Che deve essere Assolutamente Assolutamente sì Però No ok Ma quello è Un futuro distopico E va bene Però la cosa che mi interessa È che E su questo Stiamo sicuramente d'accordo Nella vita di tutti i giorni Incontriamo Cioè nella nostra vita Incontriamo persone Incredibilmente intelligenti Ok Sì Giusto Siamo d'accordo Incredibilmente Stai facendo riferimento a qualcuno Sì A me No Stai dicendo in generale Cioè Anche nel nostro liceo Banalmente Nella nostra classe C'erano persone Che erano Incredibilmente intelligenti Ok banalmente Rispetto alla media Che possiamo essere noi Così Allo stesso modo Dobbiamo accettare Che esistano persone Estremamente Poco dotate Giusto Certo Ok Quindi Questa cosa Mi porta alla conclusione Che è vero Che in una società Così complessa Come quella di oggi Dove effettivamente Storicamente Non è mai assistita Una società Così collegata Così Come si può dire Connessa Perché di solito Era tutto Cioè è sempre stato tutto A misura d'uomo No Dal paesino Alla comunità È sempre stata piccola Ok Quindi Anche una persona Non tanto dotata Aveva poco Ok Di cui Occuparsi Esatto Mentre le persone invece dotate Cercavano di uscire Da una comunità stretta Per aprirsi al mondo Oggi invece Che tutti devono aprirsi al mondo Perché sennò Sono tagliati fuori Sostanzialmente Io temo Che avremo Col tempo E il cui Può essere un indicatore Tra tanti altri Ma Tanti altri Ma Ne esistono Ne esistono diversi Avremo un insieme Di persone Che sono completamente Tagliate fuori Da questo Da questo discorso Da questa apertura Verso il mondo Cioè nel senso No certo Per questo esistono Le robe previdenziali Esistono gli aiuti Sì però è un discorso Sì però sembra una cosa Sì però sembra la sfortuna No Allora 104 è se hai Un impedimento Fisico O mentale Ma se tu hai 85 di cura E quindi avrai un per forza di cose E vabbè ma se tu ti fai calcolare il cui E risulta sotto 80 Tu puoi chiedere la 104 Cioè tu diventi categoria Eh sì ma tra gli 80 Tra gli 80 e 90 Allora io L'anno scorso Ho avuto un'alunna O due anni fa Non mi ricordo Che a un certo punto Liceo Scienze umane Arriva E questa Vi assicuro Io non ho mai visto una roba del genere Io parlavo in italiano E questa mi guardava Come se io stessi parlando In aramaico Io all'inizio pensavo fosse Posso dire interdetta Si può dire interdetta Cioè pensavo avesse dei problemi Auditivi Non capire Insomma Colloquio con la madre Che ci dice No no Adesso mi ricordo come si chiama Che non lo direi No sta bene Ci porta Il famoso Certificato di SA Su cui magari Poi faremo una puntata E QI di 84 Ok Allora Questa persona Chiaramente non era adatta A un liceo Al che mi informo Anche lì un po' Forse era nato da lì Poi era il discorso mio Sul QI E mi sono accorto E mi Avevo letto E poi avevo avuto Conferma in diretta Che Molti licei di Milano Se tu presenti Un certificato di SA Con un quiz Inferiore a 90 Non ti accettano Cioè ti dicono Lei non è in grado Di affrontare questa scuola Quindi esiste già Ma è legale tutta cosa Esatto E questa Ecco Questo Non so se te lo dicono Ufficialmente O ufficiosamente Però Secondo me no Perché è un impedimento Allo studio Anche secondo me Però Il 10% Della popolazione Dal 10 e 15% Non è poco Cioè non sono Tra i gatti Che gli dici Dai ti diamo 100 euro al mese No non è poco Però All'altra parte Ci sarà anche un 10% Di persone Plus dotate Cerebralmente Nel senso Sì che produce Anche per loro No no Sì sì No assolutamente No ma io non sto dicendo Che è impossibile Beh che esistono Che esistono In Italia 6 milioni di persone Che non sono in grado Di Avere un ruolo Attivo Nella società Non ti sembra Un numero importante 6 milioni No non mi sembra Un numero importante Nel senso Riprendo il discorso Che mi hanno fatto Sul patentino di voto Cioè queste persone Devono avere il diritto Di votare No lascia stare Di voto è un'altra cosa Che non c'entra niente Sto dicendo 6 milioni di persone Che non sono in grado 6 milioni Non 6 mila 6 mila Dici ok 60 mila Io sarei già sorpreso A 60 mila A 600 mila Ti direi no A 6 milioni Ti dico Forse qualcuno Deve parlare Di 6 milioni di persone Statisticamente E poi non Stavano sicuramente 6 milioni Ma statisticamente Che Non sono in grado Di svolgere un lavoro Che chiaramente Non sono tutte così Perché queste persone Di queste 6 milioni Di persone ipotetiche Più della metà Lavorerà ovviamente Da qualche parte In qualche modo Però che tra 10 anni Non avranno Non avranno Al monte pora A me cazzo Non è un peso Anzi Probabilmente Verrà più tasse Di meno Quante tasse Un utile Verrà stato Io nei ultimi 10 anni Però Il cui Quindi C'è Le capacità Di Come si può dire È interessante Come in realtà La nostra società Sia strutturata Su Come si dice Sulla competenza Cioè Su Le persone Che sono più in grado Di risolvere Problemi E Sì ma Questo lo trovo Abbastanza ovvio Nel senso che L'uomo Crea la società Anche per difendersi Da questi problemi No Queste persone Sono quelle che In natura Morirebbero Una settimana Ok Sarebbero le prede Cacciate Da Al mammut Da Tigre Ai denti Asciavola Il fatto è che L'uomo È intelligente Quindi Oltre a avere Il pollice Opponibile Anche la capacità Di astrazione Del cervello E È in grado Di Creare una società Per sopperire A tutto quello Che Non può fare Da solo E questo è Un fattore fondamentale Della nostra società Che Non trovo Così Non sono allibito Da questa cosa Come se sono Delle persone Super dotate Ci saranno anche Delle persone Minus dotate Sì ma queste persone Minus dotate Sono tantissime E Non si parla Pubblicamente Di cosa Cioè Non Non si parla Perché Non c'è Nel senso Non è che Puoi risolvere qualcosa Cioè Sono delle persone Che Se trovano lavoro Sono felici Siamo felici anche noi Perché Allora hanno trovato un lavoro E contribuiscono alla società Punto Cioè nel senso È una conseguenza Che ci becchiamo Non è qualcosa Che possiamo migliorare Potremmo migliorarlo Magari pensando a Strutturare Delle Cazzo Ne so Delle scuole apposta Per esempio Piuttosto che Dei percorsi di lavoro apposta Come per esempio Fanno Ho visto In televisione Sono alcuni locali C'erano ormai Purtroppo Alcuni locali Che vendono cibo Dei ristoranti Birrerie E anche pub Che assumono Soltanto persone Con disabilità Con trisomia Quindi persone Con un handicap E Per esempio Quelle robe lì Secondo me Sono molto fighe Nel senso che Tu dai la possibilità Di lavorare A una persona Che Purtroppo è nata così Non ci può fare niente Non l'ha scelto lui Non l'abbiamo scelto neanche noi Però Gli dai un ruolo In questa società Lui si sente importante Fa la sua parte E comunque Si porta a casa Lo stipendio Ok Però tu continui a parlare Di persone disabili Io non sto parlando Di persone disabili Io sto parlando Di persone normali Cioè persone Che non hanno Nessun problema fisico Tu parli di cose normali Però tra quei 6 milioni Ci sono tante persone disabili Assolutamente Ci saranno tutti malati Di Alzheimer Ci saranno tutti malati Di Parkinson Ci saranno tutti schizofrenici Certo Però Io ti sto parlando Del Marco Rossi Della situazione Che era una persona Normalissima La mia alunna lì Che era una persona Normalissima Non aveva nessun deficit fisico Cioè nessun Sì è un po' scroordinata Però va bene Probabilmente aveva un Certo Ho capito Ma probabilmente Lei aveva un problema Cioè Il fatto che tu Distingui qui Dalla disabilità Io invece le vedo Due cose molto Concomitanti Cioè se questa persona Ha un cui così basso Magari ha avuto Un problema alla nascita Non gli è arrivato L'ossigeno Cioè nel senso Magari non ha una Disabilità fisica Evidente Cioè non è Focomelico Però ha comunque Una disabilità Cioè nel senso E no Perché secondo me Secondo me Tu vedi la disabilità Il fatto che abbia Poco qui Sì ma il poco qui È una misura Che noi facciamo Ed è una conseguenza Della sua disabilità Che noi non vediamo O che magari Si vede Nel senso Probabilmente Se andiamo a fare Una risalanza magnetica Al cervello Di questa ragazzina Poverina Si vedrà Che avrà Che ne so Della materia cerebrale In meno Un cervello Poco sviluppato Sicuramente Saranno delle cause Che non sono evidenti Se la guardi in faccia No Certo Però Io Dubi Non lo so Non ho letto Poi ti ripeto L'ho fatto un po' di tempo fa In questi giorni Ho soltanto riguardato Alcune cose Non ho notato Necessariamente Una connessione Tra un basso cui E un deficit fisico C'ho capito E una condizione fisica Quando esistono Proprio persone Però al di là di questo L'ultima cosa Di cui volevo parlare In questa cosa È che Sono usciti Cinque o sei anni fa Degli studi Questi su cui Io invece avevo Delle forti perplessità Che Come si dice Confrontavano Il cui Delle Le popolazioni Sì Ok In base a Il colore della pelle Possiamo dire Non diciamo Chi c'è in fondo Ok Così almeno Non offendiamo nessuno E la cosa Abbiamo fatto noi lo studio Voglio dire No certo Però la cosa Che aveva colpito tantissimo Che aveva poi in realtà Provocato la chiusura No scusa Non era questo Provocato la chiusura Però questi studi Sono stati Banditi Scusatemi E Aveva notato Innanzitutto Che Gli asiatici Sono Clamorosamente Più intelligenti Di noi A livello di cui Sto parlando A livello di intelligenza Cioè hanno Un Valore Medio di cui Cioè che Le nostre persone Dotate Sono le loro persone Normali Diciamo Sì Anche qua Ho da farti un appunto Dimmi Che E tu Tu prendi Qui Come se fosse Qualcosa Di scientifico Ok Quindi tu Dici Le persone Asiatiche Hanno Un cui Più alto La domanda È Perché Hanno Quel cui Più alto È come Quando guardi Una statistica Cioè devi capire I numeri Che stai guardando Gli asiatici Hanno Una struttura sociale E hanno Una Come dire Un rigore Che per esempio In Europa Non esiste Perché a scuola Tutti i bambini cinesi Sono bravissimi Perché sono tutti intelligenti No Semplicemente Perché hanno delle regole Diverse dalle nostre Dalle nostre E quindi sono anche più In genere Sono più educati In genere Sono più Ligi al dovere Quindi fanno sempre i compiti Quindi studiano sempre Per esempio Ma cosa c'entra C'entra Eh c'entra Perché tu Se sei abituato a studiare A seguire le regole E Fin da bambino Sai fare i compiti Nel senso che tu Hai un rigore morale Già da bambino Nel fare i compiti Per forza di cose Il tuo test del qui Sarà superiore Perché tu No ma il test del qui Non calcola quello che sai Calcola le tue doti naturali Certo Però se tu Sei una persona abituata A studiare Sicuramente Al cento per cento Anche se siamo nati uguali Io studiavo di meno Tu studiavi più Il tuo qui sarà più alto Perché il test È strutturato così Cioè il test Ti fa una serie di giochi Una serie di Eh Cose logiche Una serie di Di giochini Alla fine Con un tempo predefinito Che devi controllare Sono mille parametri Però sicuramente Una persona Più Come dire Abituata Allo studio E al rigore Avrà un risultato Più alto Ed è per questo Che non viene preso In considerazione Per come dato effettivo Ma come dato indicativo No Che venga considerato Come dato indicativo Sono d'accordo Di questa disamina culturale Di questa disamina culturale Non lo so Non ho trovato traccia Ci può stare Ma Questa è la mia idea Io non ho visto Certo Ti dico Il dato Era che non era Leggermente più alto Come ci si aspetterebbe Secondo No La tua visione Era molto più alto E la seconda Diciamo Categoria Perché Razza Non mi sembra Proprio il caso Di usarlo La seconda Categoria di persone Con il cui più alto Questo Erano Le persone Ebre Europee Cioè Le persone Ebre europee Hanno un Che sono ovviamente Sono meno Ok Però erano prese Chiaramente Mi sembra 10.000 partecipanti 15.000 partecipanti Quindi chiaramente Erano un campione Di popolazione Non è che si estenda tutti Però era giusto così Come curiosità Erano le Come si dice Le Le popolazioni Quel cui più alto Le popolazioni Ebre europee Avevano un cui Molto molto alto Però ti dico Che questo dato Mi sorprende Rispetto al cui Nel senso Sono Estremamente certo Che un cinese Sia in grado Di studiare E di capire meglio Semplicemente Perché lo fa da sempre No Secondo me Non è così Sudafricano Sicuramente Se gli fai fare Il test del qui Non essendo abituato A svolgere quel tipo Di attività Quotidianamente E non avendo Un rigore Diciamo Scolastico Nel senso che La mattina Esce di casa E gioca con Col cerchio Tutto il giorno Perché hanno Sulla scuola Non penso Non penso Non penso che abbiano Preso delle persone Così diverse Come background Però il discorso È che preso Marco Rossi Da Milano Che studia Di dieci anni E Marco Rossi Di quindici Marco Rossi Di venti Preso Cin cin di quindici Cin cin di venti C'è Il cui Della persona Asiatica È più alto Che non vuol dire nulla Perché proprio Io volevo chiudere Con questa cosa Che il cui Che è il motivo Per cui io vi invito A non misurarvelo Così come io Non me lo misuro Non dice Assolutamente Nulla Sulla Come si può dire Sul valore Di una persona Ok Siccome anche a scuola C'è molto curiosità Sul cui Perché Comunque Oggi viene fatto Tantissimo I ragazzi Sono sempre contrario A questa cosa Che i ragazzi Si facciano Usare professionalmente Il cui Perché Quando è nella media Si sentono nella media Ok E magari a quindici anni Non è ancora La capacità di capire Che essere nella media Va bene Quando ce l'hanno Molto alto Perché alcuni ragazzi Io ho dei ragazzi Con un cui altissimo Che sono chiaramente Più intelligenti di me Ok Capisci che però No È evidente Cioè che io ho Si perdono interesse Nella scuola poi Si E poi soprattutto Quelli I ragazzi Magari Un po' più debolini Un po' più sensibili Poi si caricano Di aspettative Perché i genitori Professori Tutti dicono Cazzo sei un genio Non puoi prendere Otto e mezzo No Quelli invece Magari un po' più Arroganti Così Iniziano a pensare Di essere Leonardo La Vinci Ogni tanto Poi appunto Vengono fuori Di risultati Un po' più bassi Magari Della media Quindi questi Si sentono Degli idioti Clamorosi Che magari Lo sono anche Però Così hanno Una prova Semiscientifica O che loro Avvertono come Scientifica E quindi Al di là appunto Di tutti i dati Che abbiamo citato Sul cui Che sono Simpatici Divertenti Lasciano il tempo Che trovano La cosa appunto Su cui volevo Con cui volevo Chiudere Era che Il cui Non è un indicatore Di nulla È un indicatore Di probabile Ma no Probabile Successo Futuro Vuol dire che Se hai un cui Alto È possibile Per te Avere successo In un ambito Lavorativo O di carriera Rispetto a chi Ha un cui Basso E che quindi Uno che ha un cui Di 85 Non potrà mai fare Il nero chirurgo Ok giusto perché Mi viene da dire Anche grazie al cazzo Sì sì No però Dicono è questo Sembra abbastanza normale Ma poi oltretutto Voglio dire un'altra cosa Che il test del cui Non è uno Cioè ci sono Varie Come dire Ditte Possiamo dire Che producono Queste valigette Con dentro Il test del cui E ogni valigetta Ha i suoi punteggi Il suo tipo di test Quindi Bisognerebbe avere Per avere Uno screening Uniforme Sempre lo stesso test Però complessivamente Affidabile Nel senso che Viene considerato In Italia Viene considerato Ovunque L'ultima cosa Che volevo dire Che era sulle aziende Ti ricordi che ieri Che era scoppiato Il caso di Harvard Che era divertente Nel senso che Quando viene fuori Questa storia Che gli asiatici Sono più intelligenti E adesso Io l'ho spiegata così Perché poi Io non essendo Un addetto ai lavori Non ho Il glossario Per spiegarlo bene Però Ci sono una serie Di studi Che confermano Che il cui Le persone asiatiche È mediamente Più alto Quindi cosa fa Harvard Alza Il L'asticella Alla loro D'accesso No D'accesso agli asiatici Cioè l'asiatico Non deve più entrare Con un Con un assessment Normale Che hanno Gli afroamericani E i bianchi Ma deve entrare Con un assessment Più alto Quindi rimanevano fuori Asiatici Che se fossero stati Bianchi O afroamericani Sarebbero entrati Da primi della classe A mani basse A mani basse Quindi era successa Tutta una polemica Pazzesca E concludo dicendo Che Negli Stati Uniti E in Europa Credo anche in Italia In alcuni Stati Europei Di sicuro È illegale Ok Chiedere Sapere E calcolare Il cui In fase di assunzione Di un candidato Di un candidato Ma spesso Gli assessment Che fanno fare Le aziende In parte Simulano Dei giochi Da Calcolo del cui Su alcuni aspetti Che l'azienda Come si dice È interessata Ad approfondire E in realtà Una persona Anche qua lo fanno Sì 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 Assolutamente E quindi in teoria Uno potrebbe denunciarli Per questa cosa Perché Tu non puoi essere discriminato In base al tuo cui Io Aggiungo una cosa Tanto è la società Che ti discrimina In base al tuo cui E aggiungo un'altra cosa Giustamente Punto Va bene Quindi abbiamo fatto Una disamina A proposito di qui E come al solito Fateci sapere Secondo me è un argomento Interessante no? Sì sì Interessante Anche se Ti ho detto Secondo me Sta roba di qui È un po' Non lo sottovaluti un po' La prendi un po' La legge Non è che lo sottovaluto È che Cioè Faccio uso di questo dato Come ho imparato A farlo in ospedale Ovvero come Un indicatore Molto generale Sì ma tu lo fai Da un punto di vista medico Invece non è un punto di vista medico È un punto di vista sociale Sì dal punto di vista sociale D'altro canto Mi viene a dire Grazie al cazzo Cioè se hai un cuoio molto basso Farai un lavoro umile O non lavorerai Se hai un cuoio molto alto Chiaramente Avrai una Una carriera È più probabile Che avrai Una carriera Grazie a cazzo Questo però tu lo dici Dopo E di una persona Lo puoi dire dopo Che l'ha fatto Se io te lo potessi dire prima Capisci che cambia tutto Ma sì Ma non c'è un Un ente Che ti dice prima Questa cosa Però voglio dire La ragazzina Poverina Che ha 80 di cui Probabilmente I suoi genitori Capiranno Che non farà mai Astrofisica All'università Non si vede Che non Lavoro a scuola Eh vabbè Ma questi sono problemi Familiari loro In senso Va bene Dai chiudiamo Che sennò viene Una puntata di 6 ore Va bene ragazzi Quindi ricordatevi Di iscriverci Sul nostro gruppo Telegram Cosa ne pensate Lasciate una bella Recensione E aiutateci A far emergere Un po' di pen giallo Che sta arrancando Poverino Rispetto agli altri Con appunto Una recensione Su Apple Podcast E soprattutto Andate a iscrivervi Al canale Twitch Perché ci saranno Grandi novità Quindi Vi salutiamo Grazie mille A presto Ciao 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 ciao